Buongiorno a tutti, sono Don Flavio Frignani e leggiamo insieme il brano del Vangelo di oggi, mercoledì della undicesima settimana del Tempo Ordinario. Il brano è tratto dal Vangelo di Matteo, capitolo sesto, versetti dall'1 al 6 e dal 16 al 18. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoge e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia alla tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoge e negli angoli delle piazze amano pregare, stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti che assumono un'area disfatta per far vedere agli altri che digiunano, in verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Il brano che abbiamo ascoltato, che sta al cuore del lungo discorso della montagna che occupa i capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo di Matteo, il brano che abbiamo ascoltato è un brano famoso perché lo ritroviamo all'inizio del grande cammino quaresimale, essendo il Vangelo del Mercoledì delle Sceneri. Tutti gli anni ci viene proposto perché in questo brano si parla di tre elementi, tre pratiche religiose, comune alle grandi religioni di tutti i tempi, e cioè l'elemosina, la preghiera e il digiuno. Ebbene, Gesù sente il bisogno di spiegare a quanti lo ascoltano e quindi anche a noi questi tre elementi e li spiega perché c'è un rischio che si corre nella pratica. Ora, la pratica è un qualcosa di esteriore, quindi non è semplicemente un qualcosa che si vive dentro, no? Cioè la pratica è un'esteriorità che può essere vista dalle persone che ci stanno vicine. Ecco, e qual è il rischio che si corre nella pratica religiosa? è il rischio dell'ipocrisia, cioè di fare certe cose per poter essere visti. Ora, l'ipocrita è tecnicamente è la maschera, è una maschera, è un attore. L'ipocrita è colui che recita, recita una parte, cioè appare per quello che realmente non è. È un attore, appunto, e recita perché deve apparire, deve apparire agli occhi degli altri. Deve apparire buono, bravo, bello, come una persona che fa tutto bene, che non sbaglia mai. L'ipocrita vuole apparire per quello che non è, perché è più importante il giudizio che la gente ha su di lui attraverso l'apparenza. Pertanto vuole apparire migliore di quello che realmente è. Un rischio che, se ci pensiamo bene, corriamo tutti. Ma questo rischio noi lo possiamo correre anche nei confronti del Signore, cioè vogliamo cercare di apparire per quelli che non stiamo cercando di ingannare addirittura Dio. Allora possiamo vivere anche il digiuno, la preghiera, l'elemosina in maniera ipocrita. È un peccato subdolo che dobbiamo smascherare nella nostra vita, pensare di poter apparire davanti a Dio, in qualche modo arrivare anche a vantare un credito, un merito, tanto da pretendere che Dio faccia quello che noi poi gli chiediamo. Si corre questo rischio nella preghiera se non si parte dall'ascolto della parola di Dio, ma la preghiera nasce direttamente dal nostro cuore quando noi apriamo bocca e lasciamo andare, cioè apriamo bocca e diamo fiato a tutti i nostri pensieri, a tutte le nostre richieste, senza che essi siano illuminati dalla parola. Si corre questo rischio nell'elemosina quando non riusciamo a compiere dei concreti atti di carità e di perdono verso le persone che ci sono vicine, verso il nostro prossimo. Si corre questo rischio anche nel digiuno, quando mi limito a una esteriorità per cui oggi decido di mangiare di meno quando poi domani so che mangerò il doppio recuperando anche tutto quello che non ho mangiato in questa giornata. Ma vedete l'ipocrisia più grande che viviamo è quella di non riuscire a svuotarci di noi stessi, cioè anche in queste pratiche religiose noi siamo pieni di noi stessi, siamo pieni della nostra vanità. Ancora una volta al centro ci sono io con quello che voglio, con quello che penso, con le mie ragioni, con i miei desideri, con le mie pretese. Allora il compito di questo brano del Vangelo e di queste raccomandazioni, di questi avvertimenti che il Signore ci dà è proprio quello di fare verità dentro di noi, eliminare, allontanare il lievito dell'ipocrisia dalla nostra vita e lasciare che sia il Signore a riempirla, la nostra vita, lasciare a Lui lo spazio necessario perché dilatando il nostro cuore possiamo arrivare a contenere tutte le persone che abbiamo accanto, esattamente quel nemico che ieri ci veniva chiesto di amare, amate i vostri nemici, di quella giustizia che non è la giustizia di dare a ciascuno il suo, non è la giustizia della legge ma è la giustizia della misericordia ed ecco perché questo brano si apre con una raccomandazione che fa da cappello, da ombrello diciamo così, di tutto il discorso che viene dopo. Dice Gesù di fare attenzione a non praticare la giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro ma di praticarla davanti a Dio e la giustizia, l'unica giustizia possibile davanti a Dio è la giustizia della misericordia perché noi siamo chiamati a diventare giusti come Lui è giusto, cioè diventare santi come Lui è santo, diventare perfetti come perfetto è il Padre nostro celeste e la perfezione, la giustizia, la bontà, la santità che c'è richiesta non è l'impeccabilità, non è men che meno l'apparenza ma è la misericordia, cioè vivere una giustizia che è amore. E qual è la cartina di tornasole per vedere se viviamo nella verità la preghiera, il digiuno e l'elemosina? Sta nella gioia, sta nella gioia. Ecco perché proprio quando si parla del digiuno il Signore dice quando tu digiuni lavati il volto, profumati la testa, cioè noi dobbiamo vivere quotidianamente questa dimensione di avere un volto sorridente, splendente, profumato e di spargere nella nostra vita tutte le persone che noi incontriamo, nella vita delle persone che incontriamo, il profumo della gioia di chi vive il Vangelo e lo mette in pratica attraverso questi tre comportamenti ma di farlo con la gioia, con la gioia di chi ama e di chi lo fa non per essere ammirato dagli altri ma lo fa perché ci crede, lo fa perché ha scoperto che questa è la giustizia, che questa è la carità, che questo è l'amore, quello che ci viene richiesto di vivere nei confronti di Dio, nei confronti del prossimo e anche nei confronti di noi stessi. Un saluto a tutti quanti, buona giornata, io resto con te.